Salve e buongiorno, sono Aurelio Porfiri, benvenuti a questo podcast di tradizio. Oggi voglio parlare di un tema provocatorio che ho chiamato le zitelle della tradizione. Se mi seguite cercherò di spiegare perché ho dato questo titolo. Tutti noi, o perlomeno spero, quasi tutti quelli che ascoltano questo podcast, amano la tradizione. La gran parte certamente sono molto attaccati alla tradizione cattolica, ma altre persone sono comunque amanti della tradizione nei suoi vari ambiti e contesti. Quindi questo certamente è una cosa buona. Ci sono non poche persone che si danno da fare per la tradizione, che cercano di combattere per la tradizione. Una cosa molto nobile e che certamente mi trova totalmente in accordo. Però non dobbiamo sempre pensare che tutti quelli che si richiamano la tradizione o che si dicono tradizionalisti siano sempre veramente molto sinceri. Anzi, io credo che bisognerebbe rifletterci bene, perché a volte ci troviamo di fronte a persone che, con la scusa della tradizione, portano avanti dei motivi personali, delle ambizioni personali. A volte sono dei tipi che non si capisce bene se sono carne o sono pesce, sessualmente ambigui, che stanno sempre da soli, non hanno mai una compagnia di nessun tipo. Insomma, sono persone che, devo dire, non ha a che fare solo con la tradizione di questo tipo di persone. Anzi, questo tipo di persone trovano ampia accettazione, si può dire, se vogliamo usare questa parola, anche nell'ambito, diciamo, del cattolicesimo to court. Tu vedi questi che improvvisamente ti spuntano, magari li vedi che non hanno una vita affettiva e che improvvisamente scoprono che si vogliono fare predi. Quindi io credo che coloro che scelgono i nuovi predi, coloro che accettano le richieste per fare il predi, dovrebbero ben stare attenti, perché ci sono non pochissime persone che, per nascondere altri problemi, cercano rifugio nel sacerdozio, cosa che è molto male per loro, ma ancora peggio per le anime che gli saranno affidate. Insomma, io chiamo questo insieme di persone le zitelle della tradizione. Perché le zitelle della tradizione? Devo dire subito che zitella è un termine che, di solito, ha un carattere un po' spregiativo, cioè quella, di solito, donna in questo caso, ma io non sto parlando di donne soltanto, cioè io uso il termine per donne uomini, zitelli, potrei dire, della tradizione. Le zitelle erano quelle persone che non trovavano marito e rimanevano appunto senza essersi sposate, ma c'era anche questo retrogusto di persone che sviluppavano un cattivo carattere, infatti si dice acido come una zitella, cioè che c'è sempre questo carattere un po' aspro, proprio per il fatto di non aver potuto dare compimento, diciamo, a una di quelle cose che sono un po' appunto il compimento nella vita di molte donne e di molti uomini, come il matrimonio, a meno che non abbiano un'autentica vocazione al sacerdozio, però, o la vita religiosa per le donne, però appunto ci sono queste persone che sembrano quasi insitelle, cioè persone un po' acide che fanno spesso i difensori della tradizione, ma i motivi non sono mai chiari, cioè non è che lo fanno per la tradizione in sé stessa, ma sembra che si servano la tradizione per avanzare appunto le proprie ambizioni di vario tipo e quindi queste persone sono persone da cui bisogna stare bene attente. E queste persone che di solito quando le incontri ti danno questa immagine come se loro fossero puri e santi, come se fossero immacolati, concepiti immacolati come la Madonna, ecco, io ci sto sempre molto attento e mi ricordo una frase di Gustave Dibon, un filosofo francese che è vissuto per tanti tanti anni e che a me piace particolarmente, la frase di Dibon dice «Niente ha più bisogno di purificazione di ciò che noi chiamiamo purezza». Ed è una frase non da prendere sotto gamba, perché io credo che questa sia una cosa che non è campata in aria. Bisogna ben stare attenti a coloro che ostentano una specie di mortificazione generalizzata, che appunto scansano il sesso, scansano il cibo, scansano il bere, non lo so. Queste persone a volte sono un pochino sospette o sono dei santi, però certamente i santi ce ne sono, ma la gran parte delle persone che appunto ostentano santità, come io ho detto in un mio articolo recente che ha fatto abbastanza rumore su Stiluncurie, e queste persone molte volte, se non sono santi o sante, come diciamo noi a Roma, ci giobbano, cioè stanno cercando di far vedere di essere quello che in realtà non sono. E io ne conosco di queste persone che fanno lo sguardo contrido, che si fanno vedere sempre alle messe tridentine e poi alla prima occasione pugnalano quelli che si mettono sulla loro strada. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi questa cosa io credo di averla già detta, cioè che bisogna anche superare il concetto di tradizionalismo, perché per me è un concetto che poi diviene una specie di ideologia nella religione. Bisogna superare il tradizionalismo per la tradizione. La tradizione è qualcosa di grandissimo. Il tradizionalismo, anche se da alcuni è usato ovviamente in buona fede, però ha qualcosa di molto ideologico, di molto ghettizzante. Come dicevano varie persone, mi sembra anche il cardinale Robert Sarà, diceva non vi dovete chiamare tradizionalisti, voi siete cattolici, punto. Cioè il tradizionalista vuole essere cattolico. Quindi cerca di essere cattolico in un modo più intenso rispetto a quello che purtroppo ci viene oggi propinato come cattolicesimo. Ma questo è un altro problema. Allora, molti che si trovano in grande difficoltà per la situazione odierna, cosa fanno? Si allontanano. Allora, bisogna qui fare un discorso interessante. Ci si può allontanare perché bisogna difendersi da quello che è, potremmo dire, la contaminazione che un certo mondo ci offre, un certo mondo anche religioso e anche cattolico. Quindi questo è l'allontanarsi e cercare di proteggersi, non per abbandonare la lotta, ma per cercare di lottare da una posizione più favorevole. Questo è quello che Ernest Jung diceva di allontanarsi nel bosco, rifugiarsi nel bosco. Vorrei leggervi una citazione dal Trattato del Ribelle che credo possa essere utile per dire bene questo concetto del rifugiarsi nel bosco. Allora, inizia la citazione. Per quel che riguarda il luogo, il bosco è dappertutto, in zone disabitate e nelle città, dove il ribelle vive nascosto oppure si maschera dietro il paravento di una professione. Il bosco è nel deserto. Il bosco è nella macchia. Il bosco è in patria e in ogni luogo dove il ribelle possa praticare la resistenza. Ma soprattutto il bosco è nelle retrovie del nemico stesso. Il ribelle non si lascia abbagliare dall'illusione ottica che vede in ogni aggressore un nemico della patria. Egli conosce bene i campi di lavoro forzato, i nascondigli degli oppressi, le minoranze in attesa che scocchi l'ora fatale. Il ribelle organizza la rete di informazioni, il sabotaggio, la diffusione delle notizie tra la popolazione. Fine della citazione. Ecco, questa idea appunto del ribelle, anche della tradizione, che è come un guerrigliero che cerca di portare avanti la sua battaglia in un contesto a lui non favorevole, cioè questa per me è una visione positiva, ma quello delle zitelle della tradizione non è questo tipo di rifugiarsi loro. Si rifugiano non perché amano la tradizione, ma perché vogliono servirsi della tradizione per coprire altre cose che possono essere delle proprie ambizioni malsane, la sete di potere o di carriera. Insomma, ci sono vari motivi che possono vedersi in uso in certe persone che pretendono di essere dei santi difensori della tradizione e invece sono soltanto in fondo degli imbruglioni. quindi queste cose ci devono far capire quale deve essere il nostro atteggiamento verso la tradizione. Per carità, noi tutti siamo peccatori, io sono il primo, quindi se vogliamo parlare di mancanze gravi io mi metto in fila al primo posto. Per dirlo un po' scherzando, se mi permettete un pochino di umorismo, ho letto proprio in questi giorni di quel prellato francese che praticamente è stato accusato da alcuni fedeli che molti anni fa quando li confessava praticamente gli faceva togliere un indumento per ogni peccato confessato. Ecco, se quella cosa fosse stata fatta a me io sarei dovuto andare vestito molto bene con molti vestiti addosso perché di peccati onestamente mi rendo conto che non ne faccio pochi. Allora, quale dovrebbe essere però l'atteggiamento giusto? L'atteggiamento giusto dovrebbe essere lottare per la tradizione malgrado se stessi e non lottare per se stessi se stessi malgrado la tradizione. Scusate un pochino di impappinamento. Insomma, voglio ridirlo bene, spero che ci riesco, lottare per la tradizione malgrado se stessi e non lottare per se stessi malgrado la tradizione. Insomma, non bisogna servizi della tradizione, bisogna stare molto attenti a queste zitelle della tradizione che sempre stanno lì per cercare di farsi passare per quello che non sono. Allora, intanto io vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast e spero che lo abbiate trovato interessante e vi do appuntamento ai prossimi podcast. Grazie e buona giornata. Grazie.